ciao a tutti bentornati nel canale di studio 72 oggi andremo a vedere l'opzione multicamera in Adobe Premiere in modo da riuscire a montare in simultanea due telecamere in questo caso telecamera 1 e telecamera 2 in questo caso Premiere ci viene in aiuto appunto con questa opzione di multicamera che ci facilita di gran lunga le cose perché con un solo tocco di mouse o tramite la tastiera possiamo andare a selezionare se far vedere la telecamera 1 o 2 in modo semplice e rapido ma bando alle ciance andiamo a vedere subito il nostro tutorial allora per prima cosa andiamo aprire appunto il nostro Adobe Premiere io ho già importato le mie due sequenze delle mie due telecamere la prima cosa che andiamo a fare appunto fare una creare un nuovo raccoglitore che andiamo a chiamare appunto multicamera poi selezioniamo le nostre due tracce e andiamo a mettere all'interno della nostra multicamera ora tenendo selezionato la cartella facciamo tasto destro del mouse e facciamo crea sequenza sorgente multicamera ci aprirà questo pannello io di solito vado a selezionare appunto audio traccia canale 1 qui lascio automatico videocamera 1 eccetera eccetera facciamo ok e lui ci va a creare appunto questa nuova sequenza di multicamera ora facciamo di nuovo tasto destro del mouse sopra la sequenza appena creata e andiamo a fare nuova sequenza da clip come vedete lui ci ha importato la nostra sequenza all'interno della nostra timeline adesso però vediamo solo una videocamera per andare a selezionare appunto la visuale di tutte le telecamere andiamo su quest'icona attiva disattiva visualizzazione multicamera nel caso non l'abbiate andiate qui sull'editor dei pulsanti individuate l'icona che qui la prendete la trascinate in basso poi fate ok quindi a questo punto andiamo a cliccare sul punto disattiva e disattiva visualizzazione multicamera come vedete si fa visualizzare adesso in questo caso nell'altra ok adesso mi porto più o meno ok qui dallo scocchio di dito come vedete si fa visualizzare tutte e due le nostre telecamere e qui è praticamente la telecamera in uscita quello che vedremo appunto in uscita dal nostro video ora se noi andiamo a fare play il nostro video parte e se noi andiamo a selezionare con il nostro mouse oppure con la nostra tastiera numerica 1 e 2 vedete che cambia 1 sarebbe la telecamera 1 e questa sarebbe la telecamera 2 ogni volta che noi andiamo a fare un click o andiamo a selezionare appunto una delle due camere cosa succede se io adesso vado a fare stop come vedete premier ma già fatto i tagli delle varie telecamere che siamo andati a selezionare questa cosa è veramente molto comoda e molto sbrigativa perché con un semplice click di mouse noi andiamo a selezionare la nostra videocamera e lui automaticamente ci fa il taglio all'interno della nostra sequenza ovviamente qualora volessimo farla leggere cioè modificarla possiamo sempre andare a modificare tipo andare a anticipare questa insomma possiamo sempre andare interagire in qualsiasi momento all'interno della nostra traccia però diciamo che grandi linee già la fase di montaggio delle due camere ce l'ha semplificata di molto questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial appunto vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto lasciate un like commentate per qualsiasi cosa visitate il mio sito www.studio-72.net e ci vediamo al prossimo tutorial ciao a tutti Ciao a tutti